Nell'orto avevo le ultime verdure estive, quindi ho deciso di farci questi sformatini con farina di piselli. Parto facendo dorare la cipolla in padella assieme alle verdure tagliate ad adini, i pomodori secchi, sale ed origano. Faccio cuocere per una decina di minuti e poi a parte in una ciotola unisco la farina di piselli con sale, sale caranamac, pepe, latte di soia e basilico ed erba cipollina tritati. Metto un paio di cucchiai di pastella sul fondo dei pilottini e poi metto anche le verdure. Cuocio in forno statico a 130 gradi per 25 minuti.